Qual è la soddisfazione più grande per un infermiere e quello che ti fa dire che è la professione più bella del mondo? Beh, sicuramente la gratificazione della famiglia e il sorriso del paziente a termine del percorso di cura. E invece una domanda per te. Nella tua esperienza lavorativa qual è stato il momento più bello e emozionante durante l'assistenza? Allora, durante la mia esperienza lavorativa il momento più bello e gratificante quale ho assistito è quello del primo abbraccio di una mamma al suo bambino durante l'assistenza nel nostro ospedale. Cosa significa poi di assistere un bambino malato alla sua famiglia? Allora, per me vuol dire seguire tutti i suoi bisogni e comunque renderlo quando si dice a cosa fa. Dottoressa Giampaolo, per lei cosa vuol dire avere un infermiere accanto nel suo lavoro? Per me è una figura professionale molto importante e preziosa. Quello che conta di più è la possibilità, la capacità di un'intesa e di una complementarietà nella selezione delle attività. Per me è la possibilità, la capacità di un'intesa e di un'intesa di un'intesa di un'intesa di un'intesa di un'intesa di un'intesa di un'intesa. Per me è il recognized Dottore di un'intesa di un'intesa di un'intesa di un'intesa di un'intesa di un'intesa ...